La mostra all'Europa in Italia, all'Italia in Europa è a Torino grazie al Dipartimento delle Politiche Europee, Europe Direct, il Centro di Informazione Europea della città metropolitana di Torino e l'Università degli Studi con il Dipartimento Culture, Politiche e Società. Siamo qua per inaugurare la mostra all'Italia in Europa, all'Europa in Italia a cura del Dipartimento delle Politiche Europee e siamo nell'atrio di questa bellissima biblioteca, la Biblioteca Bobbio dell'Università degli Studi di Torino. Sì, l'Università di Torino è davvero molto contenta di poter dare spazio a un'iniziativa su un tema centrale come quello dell'Unione Europea, soprattutto legato alla dimensione dei giovani e alle conoscenze. È molto bello che questo avvenga attraverso delle immagini e attraverso quindi una mostra ma anche attraverso la riflessione su quelle che saranno le parole. Siamo molto interessati anche a che le nostre biblioteche, che sono luoghi bellissimi a Torino, le biblioteche universitarie non solo, siano un momento di aggregazione intorno a questi temi e pertanto il benvenuto dell'Università di Torino è rivolto a studenti, docenti e alla cittadinanza tutta. Sono una delle curatrici di questa mostra che è stata visitata già da centinaia di migliaia di ragazzi in tutta Italia anche perché noi l'abbiamo inaugurata nel 2017 perché è una mostra che è stata ideata per celebrare il sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma. È una mostra interattiva, scaricando l'app è possibile che alcune delle foto si animino in modo da dare una specie di documentario, oltre che una visione così fissa dei momenti salienti di questi 60, ormai 63 anni di Unione quasi. Spero che anche qui riscuada lo stesso interesse che ha riscosso nelle altre città. Grazie di tutto.